Nel 2004 un rapporto della Banca Mondiale diffonde tra gli abitanti del bel paese la vergognosa notizia che metà del costo della corruzione in Europa è dato dalle tangenti in Italia, vale a dire 60 miliardi di euro vale a dire un ponte sullo stretto, vale a dire poter ricostruire la brucia e le mila romagna dopo il terremoto vale a dire 400 ospedali, 20 per ogni regione vale a dire il completo rinnovamento dei trasporti pubblici nelle città vale a dire collegare tutti gli italiani con la banda ultralarga molti hanno provato a sfatare il mito dei 60 miliardi ma la verità è che potrebbero essere ancora di più e l'Italia rimane al penultimo posto della classifica europea della corruzione percepita la corruzione consuma l'Italia e l'Italia rimane al penultimo posto della corruzione e l'Italia rimane al penultimo posto della corruzione Grazie a tutti.